Un gruppo di alunni di scuola di Kudavecchia abbia con la pancarta dell'antidificio di Parlamento che ha l'attenzione del Presidente del Parlamento Miembra del Parlamento tambi toman nota di gente del problema andando Miembra del Presidente del Parlamento che ha l'attenzione del Presidente del Stato e non si sta sostenendo se ma non è una visa ma strappata non si sta buscando un'attenzione di si ma non passi a capa per venire al Parlamento per venire al aumento di scuola ma sobra che a buona vista è corta e presente vai solucionare la signora non si pensa di trattature dos parelli però mi spera che a buona sia in questo Parlamento per non trattare il tema Miembra del Parlamento e mi spera che non si può attendere, chiamo il ministro che ci sono nel Parlamento e vogliamo soluzionare queste leggi. Il Presidente del Parlamento ha incontrato il gruppo di lante del Parlamento per attendere gli alunni. Ora siamo arrivati a una riunione, perché basta che non ci sia la classe di scuola primaria con alcuni di una maggiore, sono presenti che ci sono, sono entregati alcun documento a me, alcuna carta individuale, scrivono per un mese, e ci sono una carta che ci sono, facendo il 20 di marzo, di parlare che ci sono, raccogli la sua classe della classe. Non lo abbiamo capito nel momento qui, che il ministro parlano, il ministro di insegnanza, se ci sono state, per l'agrazione che ci sono state cosa a scoprire. Ma ci sono stati da scoprire con una scoprire, da delle lezze pubblico scuola, che non ci sono specchi, che ci sono state, e ci sono stati da scoprire, di passare la classe 6, di scuola primaria con la uecia, per il resto del anno escolar. E' una decisione che si è fatta. Se non è una decisione che si è fatta, poi ci si è fatta che la investigazione è finita. Molto non è, e anche alcuni maggiori, non è preoccupato, perché bisogna solo un luna per il anno escolar. E molto non è indicato che, che cosa succede, non è un buon lavoro, non è un classico, apparentemente, un gran candidato di muccia preparando per andare al collegio urbano, se non è equivocato un candidato di Gesù e ci sono anche 3 anni per il Parlamento di fare una riunione per il ministro per aiutare e come Parlamento lo che ci si può fare centralmente è una riunione di Ruyama è ora per chiedere al ministro per mi explica su procedura che è arriva e non è un'esplicazione che è la sua decisione che è la tua. Gente, la idea di andare con la pancarta di l'antiparlamento da un'idea con un allumno a bincone Si pensa così noi chiediamo qualcosa e noi vogliamo qualcosa e noi stiamo in luce quindi noi stiamo iniziando che non è andato aiutando e noi stiamo iniziando e noi stiamo iniziando in l'antiparlamento per noi stiamo iniziando a chi ci piace e a chi ci piace e a chi ci piace e a chi ci piace durante il processo a Papi è stata una situazione di tormento che è stato un luogo mondialmente conosci come bullying per l'allumno che è sventato qui? No E poi, non ci sono Si è possibile, però non è mai possibile, che si fa fare un po' di maschilis, il maschilis, o il maschilis, ci si fa fare un po' di cinema, di bowling, di pizza o qualcosa di così. Sì, è vero, ma se si può fare un po' di più, ma si è sempre un po' di più. Perchè la nostra storia si fa 5 amici, ma cosa così è una storia di più? per un fuor come si è buono anche, quindi se non si non si è buono, si non si è buono, se non si è buono, non si è buono, ma non si è buono,